Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, Buon Natale! ...di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata. Purtroppo si preferisce ascoltare altre ragioni dettate dalle logiche del mondo. Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace. Anche in altre regioni, in altri teatri di questa terza guerra mondiale.